Maurizio Otto, beccato, vieni qua, dai che ci racconti una mano Guarda, io sono quello che sono, ma con Alice di sicuro ti diverti di più a raccontare la mano Ma guarda, stavo scrivendo out, a dire la verità No dai, Alice è una grande giocatrice, poi bisogna una disquisizione tecnica Siamo qua due ore davanti alla telecamera Disquisita, disquisita, che ci piace Quindi proprio il muro del pianto, il muro del pianto, che cosa è successo? Ah niente, no, è una serie di conseguenze Una serie di sfortunati eventi Sì, ho preso due set over set, quattro doppie, chiuso il flop con quattro colori al tarne, di cui un set l'ho anche passato Infatti mi stavi raccontando, mentre prendevamo il caffè in pausa, che su un flop set e asso, X X, tu hai 7-7, quindi bottom set, contro? Beh, quando esco di 4.000 lui mi fa 60.000, forse ho immaginato che avendomi altribettato potrei sapere asso asso Una piccolissima indicazione, quindi ti ha fatto rest in faccia e tu hai deciso che aveva proprio gli assi Invece esattamente la mano con cui sei uscito? Apre UTG, flat middle position, flat cutoff, sono in grande buio, K4, flat anch'io Il flop è, ho 10-5, flat anch'io il flop è 10-5 X, con due cuori C'è, check, bet, 3-bet, 4-bet, resto, K4, 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 c'è, perché mi hanno messo, era al tavolo, praticamente mi hanno messo tutti il cecchino addosso E a turno un tanto mi davano scopacioni Ah, quindi ti sparavano uno alla volta Guarda, mi ha chiamato un mio amico, gli ho detto ti richiamo tra i 5 minuti quando finisco di prendere gli scopaccioni Perché veramente non ne potevo più Quindi proprio due schiaffi in faccia per Maurizio, quindi sfortunatissimo Però possiamo dire una cosa, che per te questo è sia un hobby che un lavoro Sì, sono il poker manager di un'azienda italiana molto importante E a volte porto i colori del marchio in giro per questi bellissimi tornei Direi più che a volte, perché noi ci siamo incontrati spesso durante i tornei E spesso l'ho visto, non al tavolo finale, ma ai TM, dei begli TM, vero? Sì, dai, qualcuno l'abbiamo fatto e i ragazzi, soprattutto dell'azienda, sono andati benissimo Perché tre tavoli finali, di cui due vinti, una nota degli assi portata quasi a casa, con runner-up Sì, dai, va bene, qualcosa Quindi orgogliosi della squadra, per te invece, dai, sarà per il prossimo torneo? Ma sì, dai, tanto non cambia niente Un gruppo di amici, non cambia niente, te lo dico poi quando arrivo in ufficio Ho un gruppo di amici, è sempre bello incontrarvi E speriamo la prossima volta, nel 7 over 7, di farli noi a loro Invece che riceverli su questo piccolo faccino Io te lo auguro, invece, ma dai, non gli date le sberre, guarda che bel faccino Anche perché è facile con me, cioè è troppo facile Potete darla a qualcun altro